Con i bambini avevamo desiderio Abbiamo desiderio di conoscere questo posto perché è a pochissima distanza dal nostro istituto e abbiamo aderito alla vostra iniziativa, l'iniziativa appunto Esploriamo l'Ecocentro dove i bambini hanno sperimentato praticamente proprio la raccolta differenziata, hanno conosciuto cose anche nuove che non sapevamo ed è stata un'esperienza molto gradevole da parte dei bambini che hanno partecipato attivamente Nella speranza di farne un buon uso, anche di fare un passaparola nelle famiglie ma anche di diffonderlo a scuola come iniziativa perché è stata piacevole, grazie alla Lavornia perché subito è stata sollecita nel prendere contatti e nel realizzare questo nostro desiderio È una bella iniziativa perché dovrebbe iniziare un processo forte con tutte le scuole forse di Ferentino e non solo ma deve diventare un'esperienza diciamo interessante perché i ragazzi vedono concretamente come funzionano le cose Forse più che le lezioni in classe, proprio queste cose direttamente sul posto aiutano molto e dovrebbero aiutare molto Oggi qui all'Ecocentro di Via Bagnatore a Ferentino abbiamo ricevuto la visita delle scuole elementari di Ferentino È andata benissimo perché la separazione del rifiuto è importantissima e l'Ecocentro serve proprio a questo qui È molto bello per gli alunni, hanno capito molto bene come si conferisce in un ecocentro perché se la separazione avviene fatta bene per noi è molto più facile Grazie a tutti